27 milioni di euro messi a disposizione dalla provincia di Frosinone per la realizzazione di interventi di adeguamento messa in sicurezza, efficientamento energetico, miglioramento sismico e costruzione di nuovi parti in sei istituti scolastici di Cassino, il San Benedetto nelle sedi di via Berlino e via Casilina, l'ITIS Folcara, l'istituto tecnico Medaglia d'Oro e il liceo classico Carducci. Nella sala Restagno del comune di Cassino sono stati illustrati nel dettaglio tutti i progetti e le tipologie di intervento. Dopo l'adeguamento sismico delle scuole comunali con interventi o finanziamenti da parte del Ministero finalmente si arriva all'adeguamento sulle strutture di scuole di competenza della provincia superiori, diverse scuole della città di Cassino e di questo siamo veramente fieri e orgogliosi perché così completiamo un adeguamento per la sicurezza degli studenti nelle scuole di Cassino. Un messaggio importante che vuole mandare l'amministrazione provinciale nei confronti delle nostre scuole, dei nostri ragazzi in un anno particolarmente difficile, siamo ancora nel pieno di questa emergenza sanitaria e sociale, siamo tutti consapevoli del momento difficile che hanno attraversato i nostri studenti, i nostri ragazzi e questo vuole essere un gesto di vicinanza ma soprattutto di attenzione da parte delle istituzioni, in questa occasione da parte della provincia nei confronti delle scuole del nostro territorio. 27 milioni sono risorse importanti che testimoniano il grande lavoro che è riuscito a fare in questi ultimi anni l'amministrazione provinciale di Frosinone riuscendo a portare sul nostro territorio risorse che permetteranno di mettere in sicurezza, di efficientare e di rendere i nostri istituti più accoglienti e più vivibili per i nostri ragazzi. Questa è la testimonianza di una provincia che nonostante il momento difficile, nonostante la legge di Rio, la 56 del 2014, vuole essere protagonista e centrale per un territorio.